Siamo appena partiti per Medica, per il confine ucraino-polacco, sono circa 460 km di distanza e da una parte il mondo continua probabilmente come se nulla fosse e dall'altra le persone hanno gravi problemi, la guerra sta incombendo e ovviamente tutto quello che valeva fino a 15 giorni fa, oggi non vale più. Cosa facciamo noi? Noi non siamo un eroi, non siamo persone speciali, non vogliamo essere nulla di particolare, non lo siamo, ma come membri dell'OSCE abbiamo deciso come delegazione italiana, io, il Presidente Grimoldi, il collega Invidia, di far funzionare questa delegazione e siccome noi siamo responsabili dei monitoraggi, lo facciamo per le elezioni, lo facciamo per gli equilibri che fanno parte della logica parlamentare e di tutti gli Stati che fanno parte della regione dell'OSCE, ci siamo sentiti in dovere di essere qua. Dobbiamo guardare con le nostre occhi e ascoltare con le nostre orecchie quello che accade realmente, comunicarlo ai parlamenti, questo è il nostro ruolo. Poi ci sono i governi che fanno il loro lavoro, ci sono i mediatori di pace che hanno questo ruolo importante, ci sono le Nazioni Unite che devono portare avanti un lavoro di riequilibrio di una zona veramente difficile. Quindi vi terremo informati su quello che stiamo facendo, niente di eccezionale, soltanto il nostro lavoro, ci sentiamo più tardi.